Prima di morire, un padre disse a suo figlio, questo è un orologio che tuo nonno mi ha dato, ha quasi 100 anni. Prima di dartelo, vai in una gioielleria. Digli che vuoi venderlo e vedi quanto ti offrono. Il figlio andò a vedere alla gioielleria, tornò dal padre e disse, hanno offerto 150 euro perché è troppo vecchio. Il padre rispose, vai al banco dei pegni. Il figlio andò al banco dei pegni. Tornò dal padre e disse, il banco dei pegni ha offerto 10 euro perché è troppo usurato. Il padre chiese al figlio di andare al museo a mostrare l'orologio. Andò al museo e disse a suo padre, il proprietario ha offerto 500 mila euro per questo pezzo molto raro da inserire nella loro collezione. Allora il padre disse, volevo farti sapere che non vali nulla se non sei nel posto giusto. Se non sei apprezzato, non arrabbiarti, significa che sei nel posto sbagliato. Non rimanere in un posto dove nessuno vede il tuo valore.